Mezzanotte 26, buonasera, benvenuti all'ultima edizione del nostro telegiornale. Arriva da Ankara l'improvviso colpo di scena sull'adesione di Svezia e Finlandia alla Nato. Il presidente Erdogan ha detto chiaramente che la Turchia dirà no alla richiesta dei due paesi perché da entrambi non c'è un atteggiamento chiaro nei confronti delle organizzazioni terroristiche. Poche ore prima il presidente russo Putin aveva minacciato una risposta della Russia all'espansione della Nato. Intanto dal premier ungherese Orban parole durissime nel giorno dell'insediamento del suo governo. Il conflitto in Ucraina e le sanzioni contro la Russia hanno causato una crisi energetica, ha detto. E da Bruxelles arriva un nulla di fatto sul sesto pacchetto di sanzioni. Sentiamo. La doccia fredda è arrivata da Ankara nel tardo pomeriggio. La Turchia non cederà. Non posso dire di sì a Helsinki e Stoccolma nell'Alleanza Atlantica. Sono ambigue sulle organizzazioni terroristiche. La Svezia in particolare è un incubatore di terrorismo, annuncia Erdogan, che si riferisce al sostegno dei due paesi nordici ai kurdi dell'IPG. Il veto turco complica non poco i piani di Helsinki e Stoccolma, che hanno formalmente chiesto l'adesione alla Nato perché si sentono vulnerabili di fronte alla Russia. Oggi è stata la volta della Svezia. Un passo storico che chiude due secoli di non allineamento, ha detto la premiera Andersson. Ferma la replica del Cremlino. Vladimir Putin ha spiegato che di per sé la mossa di Svezia e Finlandia non rappresenta una minaccia diretta per la Russia, ma lo è invece l'espansione delle infrastrutture militari in quei territori. In quel caso ci sarà sicuramente una nostra risposta, avvertito il presidente russo. Anche Bruxelles intende accelerare il processo di allargamento dell'Unione. I primi candidati in agenda sono Albania e Macedonia del Nord. Tuttavia il rappresentante della politica estera non nasconde le difficoltà di trovare un'intesa sull'embargo al petrolio russo. Faremo il massimo per sbloccare la situazione, ma non posso garantire che si arrivi a un accordo. Le posizioni sono abbastanza forti, ha chiarito ancora Borrell. Si riferisce soprattutto all'Ungheria, totalmente dipendente dall'egreggio di Mosca. Orban oggi ha ribadito, non bloccheremo le sanzioni contro la Russia purché non rappresentino un rischio per la nostra sicurezza energetica. L'Occidente è in preda a una follia suicida. Il prossimo decennio sarà un'era di pericoli, incertezza e guerra, ha detto Orban. Svolta a Mariupol, Kiev e Mosca hanno trovato un accordo per l'evacuazione dei soldati ucraini asserragliati nell'Azovstal. In serata decine di bus con a bordo militari che difendevano l'acciaieria sono stati visti lasciare lo stabilimento. Si tratta per ora di 53 soldati gravemente feriti che sono stati trasferiti in un ospedale nell'autoproclamata Repubblica di Donetsk e di altri 200 combattenti ucraini non feriti che sono stati portati in territorio filorusso, da dove saranno trasferiti in zone controllate da Kiev nell'ambito di uno scambio di prigionieri. Le operazioni di evacuazione dovrebbero continuare nelle prossime ore. La guarnigione di Mariupol ha portato a termine la sua missione di combattimento. Il Comando Supremo ha ordinato ai comandanti delle unità di stanza da Azovstal di salvare la vita del personale, si legge in un comunicato diffuso da Kiev. L'ordine in effetti era stato reso noto già dal comandante del battaglione Azov che aveva annunciato in un video la decisione di obbedire all'indicazione del Comando Supremo di evacuare il sito. Torniamo in Italia. La crisi in Ucraina alimenta le fibrillazioni nella maggioranza. A colloquio per onore a Draghi e Salvini, dal leader della Lega arrivano le preoccupazioni per l'invio di armi all'Ucraina che allontanerebbe il processo di pace. Proprio oggi il ministro della Difesa Guerini ha illustrato al Copasir i contenuti del nuovo decreto. L'impegno dell'Italia per la pace attraverso il sostegno all'Ucraina in posizione di sanzione alla Russia, ricerca di un cessato il fuoco e avvio di negoziati credibili e la posizione del governo ribadita da Mario Draghi e Matteo Salvini nel corso di un colloquio a Palazzo Chigi chiesto proprio dal leader della Lega. Tra il Premier e l'ex ministro dell'Interno poi sono state anche valutate le ricadute della guerra sulla nostra economia. Matteo Salvini che definisce importante il dialogo per cercare la pace al termine del faccia a faccia ripropone però i suoi distinguo sulle sanzioni e anche sull'invio di nuove armi a Kiev. Mandare aiuto economico e militare all'Ucraina spiega inizialmente era giusto e lo abbiamo votato con convinzione ora ulteriori invii di armi non penso siano la soluzione giusta. E poi osserva, se la guerra continuerà anche in Italia ci sarà una strage di posti di lavoro. Anche se il suo no è netto a nuovi armamenti verso Kiev e sull'embargo di gas e petrolio dalla Russia il leader del carroccio non arriva a chiedere un nuovo voto in Parlamento come invece fa ripetutamente Giuseppe Conte per i 5 Stelle. Giovedì il Premier terrà il suo question time in aula e risponderà alle domande sulla guerra. Domani della guerra in Ucraina discuterà anche il PD in direzione nazionale. Intanto a Montecitorio è mancato tre volte il numero legale impedendo al governo di porre la fiducia sul decreto legge Ucraina bis un segnale d'allarme per una maggioranza stressata dalla guerra e in tensione per la campagna amministrativa. Gli hacker russi di Kilnet hanno annunciato il lancio di un attacco informatico globale contro vari paesi fra cui Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Italia, Polonia e Ucraina. Lo riferisce in un tweet il sito di notizie indipendenti bielorusso Nexta TV. In Italia è stato attaccato il sito della polizia. L'azione è iniziata la scorsa notte ed è stata fronteggiata anche con gli specialisti del centro anticrimine informatico ottenendo il progressivo ripristino delle piene funzionalità del sito. Un uomo incappucciato con voce artefatta rivendica l'attacco hacker contro il sito della polizia italiana e annuncia il lancio di un attacco globale contro le infrastrutture informatiche di dieci paesi. Anche stavolta il collettivo filorusso Kilnet a colpire la rete italiana lo aveva già fatto appena cinque giorni fa quando aveva mandato in tilt i siti di Ministero della Difesa e Senato e di alcune grandi aziende italiane rendendone impossibile per molte ore l'accesso. La notte scorsa alle due l'intrusione sul dominio della polizia di Stato non ha provocato danni alle infrastrutture ma si è limitato a saturare le connessioni e ha comportato un rallentamento. La piena funzionalità del sito è stata ripristinata dopo qualche ora. La rivendicazione di Kilnet non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso i canali Telgram del collettivo filorusso che ha contestualmente smentito di essere l'autore del tentativo di far saltare il sistema elettronico di voto dell'Eurovision Song Contest che ha decretato la vittoria del gruppo musicale ucraino. Non siamo stati noi, ha spiegato l'uomo incappucciato. Oggi, invece, dichiariamo ufficialmente guerra a dieci paesi inclusa l'ingannevole polizia italiana, dicono irridenti proprio così. La notizia e il video sono stati poi diffusi da un sito di informazione bielorusso, Nexta TV. Oltre all'Italia, i paesi nel mirino di Kilnet sarebbero Stati Uniti, Germania, Regno Unito, Lettonia, Romania, Lituania, Estonia, Polonia e naturalmente Ucraina. Tutti i paesi, a detta degli hacker filorussi, che supportano nazisti e russofobi. Chiudiamo con il calcio, penultima giornata in Serie A con due recuperi. Oggi la Sampdoria ha battuto la Fiorentina per 4-1, 2-2 fra Juventus e Lazio. Allo Stadium la parola fine viene scritta soltanto all'ultimo dei cinque minuti di recupero. Per la Lazio una rimonta da 0-2 a 2-2 che porta dritto in Europa League. Le emozioni del primo tempo concentrate in mezz'ora e poco più. Al decimo la rete del vantaggio bianconero, nata dal cross di Morata e finalizzata in tuffo da Vlaovic. E al minuto 17, tante quante le sue stagioni alla Juventus, lo stadio si ferma per il commosso di Giorgio Chiellini. 559 presenze in bianconero, dietro soltanto a Del Piero e Buffon. Ed è da incorniciare anche l'azione del raddoppio con la finezza di Ribala, il tocco di quadrado ed il controllo di palla di Morata. La ripresa si apre con la prima rete bianco celeste sul colpo di testa di Patrick, deviato da Alex Sandro nella sua porta. Nel finale l'addio alle armi di Paolo Di Bala, applaudito da quella che per sette anni è stata la sua tifoseria. All'ultimo assalto la Lazio coglie il 2-2 e la qualificazione all'Europa League sugli sviluppi di una ripartenza, la respinta di Perin sul sinistro di Bacic e deviazione vincente di Milinkovic-Savic. In casa della Sampdoria la Fiorentina crolla e scende in settima posizione. Al sedicesimo sulla punizione di Candreva interviene al volo Ferrari. Dopo l'occasione di Candreva arriva quasi tre mesi dopo l'ultimo centro il raddoppio firmato a Quagliarella con un tocco di classe da assist di Sabiri. Il suo bottino in Serie A sale a quota 181 gol. Al settantunesimo il trisdoriano da Sabiri a Candreve sul cross puntuale norvegese Torsby. E c'è tempo anche per il gol del poker, opera di Sabiri suo il destro dai 16 metri che corona la sua ottima prestazione. Poco prima del fischio finale il rigore per la Fiorentina segnato da Nico González. In previsione del finale di campionato la Lega ha comunicato che le partite di Milano ed Inter si svolgeranno domenica alle 18. Appuntamento invece alle 21 per i match di Cagliari e Salernitana impegnate nella lotta per la salvezza. È davvero tutto, l'informazione torna domattina alle 7 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e buonanotte.